Guardate quanto avete in tasca se io vi consegnassi una macchina che moltiplica anche solo per due. Cazzo, quanti soldi mettereste? Anche solo per due. Facciamo per due. Io metterei tutto quello che ho. Warren Buffett dice che è il suo patrimonio, che è un fenomeno ovviamente nel suo settore, che il suo patrimonio cresce dal 20 al 25% annuo. Annuo. Quindi non è poi così male in una settimana. Il mio nome è Mick Cosentino e sono parte di un gruppo di infoimprenditori di cui probabilmente non hai mai sentito parlare. Noi non abbiamo bisogno di investitori, non abbiamo bisogno di banche, non abbiamo bisogno di denaro in prestito dagli altri. E non abbiamo neanche bisogno che altri ci impongano obiettivi loro e non nostri. Infatti noi creiamo denaro da zero e impariamo a portare il valore sul mercato per cambiare la vita delle persone. Noi lottiamo contro la crisi, contro i politici, contro tutto quello che non ci permette di prendere la vita in mano. Lottiamo contro i capi che non ti permettono di avere tempo libero per goderti la vita. Lottiamo contro tutto ciò che non è libertà. Noi siamo quelli che pensiamo in modo diverso, che cercano le opportunità dietro a ogni singolo problema o dietro a una crisi o un periodo di crisi. E abbiamo la capacità di rendere il nostro business profittevole già dal primo giorno. Quindi come riusciamo a fare questo? Come questo è possibile? Beh, è possibile e non lo impari all'università, non lo trovi sui testi scolastici, eppure accade. Accade ogni giorno che un infoimprenditore lì fuori non solo cambia la vita delle persone, ma guadagna libertà e denaro per sé e per la propria famiglia. E questo è possibile grazie a una scienza esatta chiamata Internet Marketing. Quindi chi siamo? Siamo degli infoimprenditori. Siamo degli Internet Marketers. E siamo liberi dalle catene. E' vero o no? Sì. Ok. Il secondo segreto qual è? Il secondo segreto è che puoi fare pubblicità, diventare famoso, acquisire tonnellate di fan e clienti senza investire un solo euro. E voi mi direte, ma come? Hai investito 158 mila euro? Sì, è vero, quelle sono le transazioni che ho fatto su Facebook. Però lasciate che vi racconti com'è andata. Davvero. Questo, guardate le date. Questo era il nostro account, all'epoca usavamo Amember come gestionale. Gennaio 2015, il nostro lancio di accademia, quello dove vi dico che abbiamo fatto 13 mila euro, è stato a cavallo tra il gennaio e febbraio. Perché abbiamo chiuso tipo l'uno di febbraio, quindi lui ha calcolato gennaio e febbraio. E in più c'erano i bonifici, che ovviamente non venivano gestiti da Amember, perché non c'era la transazione online. E guardate cosa è successo. C'è stato il picco del lancio e poi a marzo effettivamente avevo fatto 2000 euro. Ma io venivo da, cazzo guadagno neanche 500 euro per nuotare con cui non riesco a fare un cazzo. Avevo guadagnato praticamente per due anni. Ho detto, figa, siamo a posto, sono invincibile. Poi a marzo non lancio neanche, metto un attimo in automazione, figo, eh, automatizzo. Penso di aver automatizzato, faccio 2749 euro e dico, cazzo, guadagno quanto un dirigente, fantastico. Cazzo, due mesi fa ero povero, adesso guadagno 2700 euro al mese, wow, figo, fantastico. Però a un certo punto ho detto, Houston, cazzo abbiamo un problema. Perché? Perché le cose sono scese. 709 euro, 702 euro e a maggio abbiamo spinto un po' di più, cazzo, ci abbiamo creduto, abbiamo fatto 916 euro. E qui non è così bello, eh, perché quando pensi di aver raggiunto la vetta e poi ti rendi conto che effettivamente ancora non ci sei, che ti sei illuso, è brutto. Perché in 30 giorni abbiamo perso il 400% e non sapevo come fare. A un certo punto, però, mi è venuta un'idea. E dove mi è venuta? Mentre mangiavo da McDonald's. Questo sono io che mangiavo da McDonald's. Mentre mangiavo da McDonald's, mi è venuta l'idea. Perché? Perché come vi ho detto oggi, cazzo, ero entrato per un panino di merda a un euro e il mio scontrino davanti, là, segnava 13 euro. Ho detto, ma porca troppo, come è possibile? E allora guardavo, mi sono chiesto. Ho detto, cazzo, ma... Poi ho riflettuto. E ho detto, cazzo, ma la cassiera mi ha detto, vuole anche questo? Vuole anche le patatine? Vuole anche la Coca-Cola? Vuole anche il milkshake? Vuole anche il caffè? Io già che c'ero, per non sentirmi sfigato, ho detto, sì, sì, sì. Però ero rintronato. Quindi quando poi mi stavo mangiando il panino, ho detto, cazzo, e se lo facessi anche io così? Ho detto, minchia, devo trovare un modo per poter creare questa catena, questo concatenamento di continua vendita che ovviamente dà valore e che va ad aggiungere, ad avvalorare il beneficio di tutto quanto. E finalmente le cose sono leggermente cambiate. Perché da maggio a giugno siamo passati da 916 euro a 6.881 euro. Il mese successivo, allora abbiamo messo ancora più il gas, siamo passati a 11.000 e poi a 18.000. E poi siamo un po' scesi a 14.000 e poi 19.000 euro a dicembre 2015. e questa sola azienda aveva fatto 100.000 euro. 100.000 euro. Solamente questa azienda. Aveva fatto 100.000 euro. Capite? Maggio 916 euro e poi ne fai due mesi dopo 11.000? Che lavoro bisogna avere per guadagnare 11.000 euro? E per guadagnarne 19.000? Quindi, come è stato possibile? Che cosa abbiamo messo? Cosa abbiamo aggiunto? Che cosa abbiamo aggiunto? Noi avevamo semplicemente la nostra pagina catturanomi con i video gratis e ricordatevi la piramide del valore di stamattina. È tutto collegato. Poi c'era il nostro prodotto in vendita e poi c'era il circolo. Quindi io già un po' cazzo lo facevo, ero felicissimo. Dicevo, ma io faccio l'abbonamento, figo. Quindi cos'era? C'era questo gratis, questo costava 387 euro e questo 46 euro al mese. Quindi, di fatto, accadeva questa cosa qua. Io avevamo mille visite, il costo di pubblicità erano 250 euro, le persone che entravano in lista erano 250 persone e vendevamo ovviamente al 4%, come abbiamo visto, 1548 euro. Il 50% comprava, quindi si aggiungevano a 276 per un totale di 1824 euro. Però dovevo fare che cosa? Togliere 250 euro di costi pubblicitari. Quindi il mio profitto netto, nel momento in cui dovevo semplicemente andare a fare i conti, era sceso a 1574 euro. Giusto? Fin qua ci siamo, sì o no? L'abbiamo visto prima, no? Purtroppo siamo arrivati a 870, cazzo. 78. Poi però abbiamo aggiunto una cosa. Abbiamo aggiunto un pezzo che costava solo 19 euro. E come sono cambiate le cose nel momento in cui abbiamo aggiunto un pezzo? Un solo pezzo ha cambiato tutto quanto, perché per mille visite tutto è rimasto uguale. Costo pubblicitario è 250, la opt-in page continuava a convertire a 250 persone, ma poi cosa abbiamo fatto? Abbiamo inserito una pagina di ringraziamento, dove però diciamo, grazie mille, la tua mail, controlla la tua mail, c'è il video gratuito, però fermati un attimo, perché dato che mi hai appena dato fiducia, ho qualcosa di importante per te, e se chiudi questa pagina non lo potrai più vedere. e iniziavo a raccontare perché era importante prendere un webinar che io avevo tenuto a porte chiuse e che poteva essere sicuramente utile alla maggior parte delle persone. In più, davo il mio libro in PDF in regalo come bonus per valorizzare. Lì dicevo, guarda, se vai su Amazon costa 28 euro, quindi è un'offerta reale. Ok? E cos'è cambiato? Che il profitto immediato è stato di 380 euro. Quindi abbiamo di fatto bruciato i costi pubblicitari e il guadagno netto è stato di 130 euro. Le persone, nel momento in cui entrano, noi abbiamo già guadagnato, bruciamo l'investimento pubblicitario da subito, prima ancora che queste arrivino a guardare i video di valore. Prima ancora che arrivino. E poi cosa accade? Che nel momento in cui le persone arrivano sulla pagina di vendita, 1548 euro, c'è sempre questa cosa qua, si aggiunge tutto quanto e che cosa succede? Che automaticamente il profitto netto è di 1954 euro. Questo vuol dire solamente una cosa. Budget illimitato per conquistarsi un mercato. Ragazzi, riuscite ad immaginare voi stessi fare pubblicità senza minimamente sentirlo, senza metterci un euro. Cazzo, cambia tutto. Potete fare qualsiasi cosa.